Ciao ragazzi, noi siamo i Magical Dreams, Red, Aria e Blue, vi danno il benvenuto a questo nuovissimo video E che chiede Orlando? Non so Ah ecco infatti, e guardate che cosa abbiamo qui, abbiamo delle uova che purtroppo non si possono più mangiare Quindi oggi vorremmo fare un'altra challenge Un'altra frittata Red, quando le uova non si possono mangiare o si fanno degli attacchi d'arte oppure come dice Aria una challenge Allora ragazzi che fate? Allora ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei uova e sono due ciascuno Dobbiamo assolutamente provare a non romperle ragazzi, guardate come si fa Spiegano tu Red Ci aiuteremo con un meraviglioso piatto, vedete? Perché altrimenti facciamo un piccolo pasticcio E per evitare ciò noi prenderemo l'uovo in verticale, lo vedete? Questi due punti, uno e due, sono i punti più forti dell'uovo Pensate, ci vuole una forza talmente forte per riuscire a spaccarlo Ma non ce la faremo... Uuuuuh che spaccaoo! Bene, e quindi noi non possiamo sbagliare perché basta un millimetro più avanti o più indietro Facciamo una vela frittata Ma dai dai Red, cominciamo questa sfida Abbiamo cinque secondi di tempo per dare tutta la nostra potenza all'uovo, ok? Pronti? Conti tu Aria Sì, vai Uno, due, tre Cinque, non si è spaccato! Vai Aria Via Uno, due, tre Ancora, ancora premi Aria Cinque Ma si è rotto! Non si rompe Tocca a Blu Blu, tocca a te Ah, ci sono io Vai, vai Blu, tocca a te Via Uno, due, tre, quattro, cinque Spacca! Ma... Aspetta Ah, lo puoi di tutti e due È buono Seconda possibilità Sì, e ovviamente stavolta si conta fino a dieci Cambio uovo Questo Oh, più chiaro Sì Sei pronto? Ti dico io via Però stavolta contano anche i bambini da casa con me Sei pronto? Sì A proposito Aspetta Dobbiamo dire una cosa importante Mettete mi piace Condividete il video Ma soprattutto attivate la campanella Adesso via! Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Non ci sei riuscito No ragazzi, no, è difficilissimo Sembra semplice Ma non lo è Tocca a me Ciao uovo Adesso tocca a Daria Il suo secondo round Ss Ma ne potete andare tutti e due Venite, bimbi Venite, venite Uovo, ti devi rompere Dai, devo vincere anche questa manca Non ce la farò Ti prego Ti prego Tre, due, uno Via Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Non ce l'hai fatta E adesso ci provo io Ultimo round Ma io cambio uovo Quello più rouge Bene Sei pronto Blu? Prontissimo Metti tutta la forza che hai in corpo E Mi distrae Aria E Via Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Non ce l'abbiamo fatta Non ce l'abbiamo fatta Ma perché è veramente difficile È vero Però adesso vi faremo vedere una sorpresa Venite qui Se questa volta rompiamo l'uovo dalla parte laterale sicuramente si romperà E certo perché dobbiamo far vedere a tutti i nostri amici che queste sono uova vere Esatto Possiamo fare la frittata No abbiamo detto che queste uova non si possono mangiare Senti guardiamo così l'uovo che ci prova Come possiamo romperle Giusto Con un attrezzo Ho le cose più strane e curiose Oh è Aria L'arriccia spiccia Ma no Aria Quella è una forchetta È una arriccia spiccia Ma non abbiamo bisogno della forchetta Basta fare così Con le dita Nella parte diversa Rispetto a quello che abbiamo fatto prima Puff L'uovo si rompe Ti faccio vedere come si fa Sono pronta Ecco L'ha rotto Oh bella questa frittata Wow Ne volete rompere uno anche voi velocissimi Dai 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 Sì Oh L'ho rotto È quello che vi dicevo prima Più Ah 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 No 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 E allora ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Mettete mi piace Condividete Ma soprattutto attivate la Campanella E cosa devono fare poi? Oh sì Per altre sfide Scrivete nei commenti sotto in questo video Ciao Ciao Alla prossima ragazzi Ciao 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 Ciao